Buongiorno a tutti, oggi troviamo il convento in Santa Maria Lippa da Empoli, abbiamo cominciato di 5 campani più una campana sotto, adesso ho 3 campani, se li stiro da qui, ora abbiamo messo la piccola, ora sotto mi sembra che passano le campani, poi sentiamo le campani di sopra, là c'è il campanone, questa è la seconda campana, là c'è la terza campana da sotto la piccola, non c'è la terza campana, non ci aspettiamo, allora e quindi a presto la prima volta che la campana mi rotto, e ora la scorto va a tutti, ciao! a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie.